Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina sotto Marina Vecchia, poco dopo le 8, quando da un'abitazione che si affaccia sul campo dei Berti è partita una chiamata di emergenza. Le sirene hanno risuonato nell'aria, mentre i vigili del fuoco, polizia di stato e ambulanza sono arrivate velocemente al campo dei Berti. La causa? Un giovane di nazionalità straniera è caduto da una finestra, scattendo l'ansia per il suo stato di salute. Ancora avvolto nel mistero sono i motivi che hanno portato a questa pericolosa situazione. Non è noto se il giovane fosse vittima di una crisi indotta da sostanze o se vi fosse un altro motivo dietro l'incidente. Al momento dell'arrivo dell'ambulanza però il giovane, accompagnato da un compagno, anch'esso straniero, ha rifiutato ogni forma di assistenza allontanandosi volontariamente dalla scena. Vigili del fuoco e personale medico hanno così fatto ritorno alle rispettive basi senza effettuare alcun intervento, mentre la polizia di stato ha continuato le indagini sul posto cercando di chiarire dettagli dell'accaduto e valutando se fosse necessario un ulteriore intervento. Questo episodio purtroppo rievoca i timori legati alla diffusa problematica delle droghe. Oltre ai rischi per la salute individuale, tale fenomeno genera conseguenze che si repercutono sull'intera comunità, evidenziando la necessità di affrontare con determinazione questa emergenza sociale. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Grazie per la visione!